Il patchwork è così. Inizi per provare e idea dopo idea finisci per creare. Bastano le tue mani e facilissimo patchwork. L'ABC per iniziare. Schemi e fascicoli con tante proposte. Stoffe per realizzare subito idee originali. Facilissimo patchwork. Impari, ti affassioni e liberi la fantasia. Prima uscita in edicola. Fascicolo e primo patchwork da creare a solo 1,99 euro. De Agostini. Dai un taglio più creativo al tuo mondo.